il bagno sempre più grande della camera ah c'è la doccia, non l'avevo visto 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 morti dal sole dopo anni siamo arrivati al palazzo del comune di Savona perché noi sono comunista così ma è pure virla provare il domo di Savona per voi comuni esseri umani perché è nascosto in mezzo a delle palazzate da non credere di fronte non c'è un'aria, una piazza ma di palazzi che lo coprono di Savona la terminal croce non c'è un'aria 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 non c'è non c'è un'aria non c'è un' decrease Notte brava per i croceristi di Costa Smeralda, il ritrovo. Nave bella avanti, nave MSC di dietro. Porto di Marcia, a questa traversa, si risale per la gioletta, si taglia tutto. Si arriva alla fermata del bus pubblico del Termino a Conoscere. Come fa? Lui, Cia, non lo fa nessuno. Il nostro fantastico amico di Firenze, deliziosa, lo chiamavano. Sei un grande! E' aperto. Ci spritziamo? È freddo, facciamo lo spritzio. Ci spritziamo al bar? Sì. Che vuole uno spritz? E' un po' saluto e la prima pronti di nuovo per il nostro spritzino. E' alla faccia della MSC! Marsiglia 21 e anche quest'anno inauguriamo il Festival di Sanremo con l'anteprima dietro di noi, c'è il personale che sta preparando il palco con la recensione in modo che non entrano durante le prove dei filmati. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 I negozi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivati. Uffi. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.